Ciao a tutti, oggi eseguirò un trattamento di microblading su una modella d'eccezione che è mia figlia Valeria. Inizierò con il progetto a matita per poi procedere con il trattamento vero e proprio. Disinfettiamo l'aria da trattare e con la pinzetta andiamo a togliere ciò che sappiamo non ci sarà necessario nella nuova forma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo terminato il nostro trattamento di microblading. Ecco Valeria e le sue nuove sopracciglia. Ciao a tutti.